Allora, io rappresento Technology for Propulsion and Innovation che è una startup di Padova e alcuni concetti che avrei pensato di presentare in questa slide sono già stati presentati da Monica e da Jonathan, quindi magari li vedremo un po' velocemente. E prima di parlarvi un po' di quelli che sono i sistemi di propulsione in questa nuova era di queste piccole piattaforme satellitari che è ciò di cui ci occupiamo, vediamo un attimino rapidamente questo contesto. Allora, come vi hanno già presentato, si sta passando proprio dal lancio di Worldview 2 per applicazioni di osservazione della Terra nel 2006, ovvero un satellite costato 400 milioni di dollari e di una massa di 2300 kg, a satelliti che ne costano 50 di milioni di dollari come SkySat-1 e che pesano 100 kg, a questi microsatelliti, nanosatelliti, delle dimensioni di 10x10x30 cm di planet, questi DAV, il cui costo è di 100.000 euro. Quindi satelliti che pesano 6 kg e che costano 100.000 euro l'uno. Ora, questi sono tre esempi di satelliti di esplorazione terrestre. C'è da dire una cosa che non è emersa precedentemente, ovvero che questa miniaturizzazione è possibile sino ad un certo punto, perché c'è poi ad esempio un limite fisico di ottenimento di dimensioni delle ottiche per l'ottenimento di buone risoluzioni. Infatti Worldview 2 aveva una risoluzione di 0,5 metri, SkySat di 2 e DAV di 5. Ma che cosa succede? Che non si parla solo di miniaturizzazione e di produzione di massa in questo caso, si parla anche di sensor fusion. Che cosa significa? Significa che le informazioni vengono messe assieme, quindi vengono fuse le informazioni di più sensori per ottenere delle capacità e delle accuratezze che sono uguali o addirittura superiori rispetto a quelle che erano ottenibili utilizzando un singolo satellite delle masse di cui abbiamo parlato precedentemente. Che cosa sta succedendo? Che non c'è più una singola risposta ad un'esigenza, ovvero un lancio dedicato per una esigenza privata o governativa che sia, ma stiamo assistendo veramente, stiamo andando verso un monitoraggio completo e costante del suolo terrestre in questi casi, che ci permette quindi di avere l'informazione on demand. Chiediamo l'informazione e la otteniamo in quel momento. Questo un po' riprende i concetti precedenti, quindi ha una serie di benefici e un impatto sociale importante. Adesso, senza menzionarli tutti, non si è parlato dell'urbanizzazione, quindi ad esempio della criminalità e anche della crescita delle città, come stanno crescendo, come stanno evolvendo. Questo monitoraggio continuo ci può rispondere a questa domanda, come anche nell'agricoltura, quindi non sono più solo i grandi governi e le grandi nazioni che possono occuparsi di gestire questa mole di dati di trarne vantaggio, ma anche le regioni più piccole e le piccole aziende anche di agricoltori, ad esempio italiani. In alto a sinistra, in alto a destra, scusate, vediamo ad esempio quello è un campo di rifugiati in Giordania, un campo di rifugiati in cui si sono insediati 80.000 siriani ed è cresciuto, è stato fondato nel 2012 e oggi non ci sono più delle tende lì, ci sono degli edifici veri e propri e quindi c'è stato proprio un insediamento di massa e la monitorizzazione di anche come questo campo ed altri campi vengono gestiti e si ingrandiscono è sicuramente di grande valore, diciamo, mondiale. Ma c'è un aspetto ed è quello su cui sta lavorando l'azienda, no? Ovvero, di che cosa hanno bisogno queste costellazioni di nanosatelliti per effettivamente riuscire a funzionare come dovrebbero? Allora, i satelliti devono occupare delle posizioni precise nello spazio, sia in relazione alla Terra che in relazione a se stessi, quindi l'uno con l'altro, e devono essere rilasciati anche, devono permettere, devono riuscire a muoversi all'interno dello spazio. I satelliti, come diceva Monica, ed è un lavoro che sta facendo di Orbit, che cosa devono essere anche in grado di fare? Di non dare fastidio nel momento in cui non funzionano più. E quindi, diciamo, devono riuscire nel momento in cui raggiungono la fine vita, la fine missione, a rientrare o ad occupare un'altra posizione orbitale. Ma devono anche essere in grado di continuare, no? Anche questi nanosatelliti possono essere utilizzati per l'esplorazione spaziale, e quindi hanno bisogno di muoversi nello spazio, per tutta questa serie di motivi. Allora, più di 120 nanomicrosatelliti sono stati lanciati nel 2014, come mostrava Jonathan. e il futuro, appunto, è di poterne lanciare più di mille all'anno. Ora, sì, è molto bello questo scenario, ma bisogna anche riuscire a lanciare questi microsatelliti. Quindi, se fino a ieri il mercato ha visto lanci, diciamo, no? Che sono stati effettuati con lanciatori di altezze, come è stato un 5 di 110 metri, con delle masse in orbita di 140 tonnellate, delle masse del lanciatore stesso di 3.000 tonnellate, per dei lanci quanti, 3, 4 lanci all'anno, abbiamo bisogno oggi di una risposta invece veloce, rapida, e che sia low cost, poco costosa, per lanciare satelliti da 6 kg, da 3 kg, da 10 kg. E quindi c'è bisogno, come vediamo in basso a sinistra, di piccoli lanciatori, versatili, che possano lanciare satelliti anche settimanalmente. Ed è in questo contesto che Technology for Propulsion and Innovation opera. Ovvero, l'azienda è nata tre anni fa, ed è nata, i cui fondatori fanno parte del gruppo di propulsione dell'Università di Padova, è nata come spin-off dell'Università di Padova. Quindi portandosi dietro degli sviluppi di tecnologie, come quelle propulsive satellitari, che, insomma, non si sviluppano nel giro di un paio di anni. Il gruppo ha iniziato a lavorare su tecnologie di propulsione satellitare e tecnologie di propulsione per lanciatori a partire dal 2006. E queste hanno raggiunto nel 2003, nel 2014, quando è nata l'azienda, una maturità tale da poter essere pronti per affacciarsi al mercato. In particolare, oggi siamo in 13. Che cosa sviluppiamo? Di che cosa ci occupiamo? Già a partire da dieci anni fa, diciamo, questo trend era chiaro. Il trend verso la miniaturizzazione e la standardizzazione. E quindi il gruppo si è focalizzato su due tecnologie, proprio in prospettiva di questo nuovo mercato dei nano e dei microsatelliti. In particolare, la tecnologia Eilicon, che è una tecnologia per dotare i satelliti di propulsione, e che, come vediamo qui, ad esempio, c'è un esempio di un satellite composto da sei unità, quindi un sistema propulsivo molto piccolo, un modulo che possa essere quanto più possibile versatile, e che hanno iniziato a sviluppare a partire dal 2009, e la cui fisica stessa di implementazione è stata molto complessa, ma la cui ingegnerizzazione è veramente semplice. Quindi si parla di pochi pezzi oggi, compresa la fisica, si parla di pochi pezzi da mettere assieme e da installare all'interno di un satellite, che diminuisce sia i costi di sviluppo che i costi ricorrenti di questo motore. Quindi è adatto per questo tipo di applicazioni. È versatile abbastanza da poter coprire quelle che sono le necessità di cui parlavo prima, quindi con un solo sistema propulsivo noi andiamo a fornire la mobilità di cui necessita il satellite durante tutto l'arco della sua vita, dall'immissione in orbita fino al rientro. E qui vediamo un'immagine, una fotografia del motore, del singolo motore, il thruster, e diciamo di tutto il sistema propulsivo che va poi installato all'interno del satellite. La seconda tecnologia su cui investe Technology for Propulsion and Innovation è una nuova tecnologia per questi nano lanciatori, micro lanciatori di piccola taglia. Infatti avrebbe poco senso prendere un lanciatore e miniaturizzarlo. perché dal punto di vista delle performance e dei costi di sviluppo e anche dei costi ricorrenti non sarebbe poi appetibile nel mercato. C'è una nuova tecnologia che in realtà non è nuova, ma non aveva mai raggiunto una maturità tale da poter essere competitiva nel mercato e dopo dieci anni di sviluppi diciamo siamo pronti anche con questa per entrare nel mercato. È una tecnologia ibrida che permette quindi di offrire, diciamo, dei moduli propulsivi con bassi costi ricorrenti, bassi costi di sviluppo di nuovo, che permette, grazie alla variazione del profilo di spinta di inserire i satelliti direttamente nelle orbite corrette e inoltre che utilizza dei materiali combustibili quindi i cosiddetti green, i cui esausti di combustione sono anidride carbonica e vapore acqueo. Qui vediamo alcuni esempi di ciò che facciamo, quindi partiamo dalla progettazione, dal design alla simulazione, a test a terra e a test di volo di questo tipo di tecnologia. Per chiudere volevo appunto, ma questo è già stato anche detto prima, non ci sono solo dei benefici dal punto di vista di osservazione terrestre, ma abbiamo anche appunto, come diceva Monica, la possibilità di accedere ad un accesso internet distribuito e mondiale, la possibilità anche di provvedere a dei programmi di educazione anche universitari perché non stiamo più parlando di costi non sostenibili in relazione alle attività spaziali e quindi anche scientifiche, e anche alla creazione di nuovi posti di lavoro.